Voleva giocare nella Juve. Per me questo è lo più importante. Credo che è una squadra grandissima e credo che qui possa migliorare. La Juve è una squadra che si può comparare a Barcelona, Madrid o la migliore d'Europa. Per me è un salto di qualità molto alto. La Juve. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il metodo Conti mi sembra bellissimo, sono molto contento di poter lavorare a suo fianco. Credo che il lavoro che stiamo facendo è molto buono, è duro, ma deve essere così per migliorare. Sono molto contento. Il metodo Conti mi sembra bellissimo. Il metodo Conti mi sembra bellissimo. Il metodo Conti mi sembra bellissimo.